we can fantastico 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 we can su L101 fantastico we can fantastico fantastico su L101 eccoci di nuovo insieme grazie alla nostra redazione ad essere grazie al nostro regista Giuseppe Milano grazie a voi amici che siete super svegli in viaggio chi a casa io sono la vostra e anche non dimentichiamoci di loro chi sta lavorando oggi per rendere tutto più scorrevo agli operatori del settore turistico che ovviamente vi stanno accogliendo e coccolandovi a dovere grazie davvero perché arrivano un sacco di auguri infatti oggi è Pasqua e noi vogliamo fare una Pasqua diversa una Pasqua fatta di cui è uscito il mio accetto bolognese una Pasqua di curiosità, una Pasqua di domande domande del perché e per come, perché si chiama Pasqua dovete spiegarmi, d'altronde io ho studiato un po' ma sono la vostra amica musulmana araba pienamente il Ramadan che conosce le tradizioni cristiane e le tradizioni di questo bellissimo paese ma vorrei addentrarmi ancora di più nelle vostre vite sapere delle vostre Pasque, quelle bellissime ma anche quelle disastrose, perché no? una Pasqua che vi ricordate in particolar modo al 331 80 90 101 partiamo un po' Grazie a tutti